Grano. Grano. Sono morto e loro parlano di grano. La questione è, io ho imparato qualche cosa dalla vita. Solo che gli esseri umani sono divisi in due, mente e corpo. La mente abbraccia tutte le più nobili aspirazioni come poesia, filosofia, ma che si diverte il corpo. La cosa importante è non essere amari. Voi, sapete, se viene fuori che c'è un dio, io non credo che sia cattivo. Credo che il peggio che si può dire di lui è che fondamentalmente è un disadattato. In fondo, sapete, ci sono cose peggiori della morte. Se avete passato una serata con un assicuratore, voi capite cosa intendo. Il segreto credo che sia non pensare la morte e la fine, ma pensarla piuttosto come un modo molto efficace di ridurre le vostre spese. Quanto all'amore, sapete che si può dire. E non è la quantità dei vostri atti sessuali che conta, è la qualità. D'altronde, se la quantità è meno di una volta ogni sette, otto mesi, io una guardata me la farei dare. Beh, io avrei proprio finito. Addio. A presto. A presto. A presto. A presto. A presto.